Il Natale quando arriva, arriva! Bisogna farsi trovare preparati e ormai a Vicenza ci siamo. Il Centro Storico indossa il vestito delle grandi occasioni. Ecco un'anticipazione di quel che accadrà, dove, come e quando. L'accensione delle luminarie avverrà sabato 1 dicembre, nel tardo pomeriggio chiaramente. Però non saranno solo le luminarie, la novità, sapete che abbiamo scelto un motivo molto tradizionale, appunto natalizio, come quello del cielo stellato, che coinvolgerà tutta la città. Dopodiché, proprio a proposito di chicche, abbiamo previsto anche l'installazione di una pista di ghiaccio in Piazza Biade. Questa è la grande novità di questo Natale. Pattinatori, preparatevi! Arriva la pista di ghiaccio in Piazza Biade. Questa è la novità assoluta e poi, ovviamente, ci sarà il villaggio di Natale. Io posso promettere che ci sarà un mercatino che coinvolgerà tutta Corso Fogazzaro, tutta Corso Fogazzaro, fino ai Carmini. A proposito di promesse, Assessore, noi di Rete Veneta avevamo lanciato la proposta di riportare i carri a Vicenza per il Carnevale. Siccome bisogna organizzare tutto per tempo, parliamo prima per parlare bene. Allora, condividendo anche tutta quella serie di suggestioni che avete messo in fila sul Carnevale, vi posso anticipare e confermare che ho chiesto la disponibilità al sindaco di Malo, Paola Lain, per verificare la fattibilità. Colpo di scena, un gemellaggio tra Vicenza e Malo per il Carnevale. Sì, l'idea sarebbe proprio quella di portare il meraviglioso Carnevale di Malo per le vie del centro storico della città. Stiamo avvaliando una serie di condizioni, anche oggettive, ok, considerando le dimensioni dei carri, però la volontà è appunto quella di portare a Vicenza sia le loro squadre, i loro gruppi e possibilmente, se riusciamo, anche qualche carro. Che è la proposta di Rete Veneta, i carri a Vicenza per il prossimo Carnevale? Sì, è una proposta che, come sapete, mi ha trovato subito ben positivo nel tentativo di realizzarla, nonostante i tempi stretti. E noi di questo la ringraziamo, potranno sfilare in centro storico e magari, perché no, anche sulla salita di Monteberico, come da tradizione. Ci proveremo. Ci proveremo. Bene, intanto apprezziamo il tentativo e registriamo la promessa dell'assessore Icarri a Vicenza per il prossimo Carnevale, però aspettiamo di vedere per credere, quindi per quanto ci riguarda la questione non finisce qui, ma continua.